Bentornati, nella lezione numero 16 abbiamo realizzato i muri di questo ambiente e abbiamo provato a vedere cosa succedeva illuminandolo semplicemente con la luce ambientale. Abbiamo visto che l'immagine che ne scaturiva era fortemente rumorosa, molto buia, comunque piena di grana e ci eravamo ripromessi di capire come fare per migliorare questa situazione anche perché ovviamente dobbiamo puntare a ottenere delle buone immagini. Bene, quello che faremo ora sarà sperimentare insieme alcune diverse impostazioni, alcuni diversi parametri per capire noi da soli come migliorare l'immagine. Vediamo quale strumento Blender ci mette a disposizione per capire se stiamo lavorando bene e se è possibile ancora migliorare. Assicuriamoci di aver impostato il motore di rendering Cycle. Impostiamo come risoluzione del rendering il 50% di 1920x1080 per fare prima. Impostiamo quindi anche come numero di sample nel render magari anche soltanto 100, adesso è soltanto per fare una prova. Quindi lanciamo il rendering. Possiamo andare nel menu render e quindi fare clic su render image oppure semplicemente possiamo premere F12. Vediamo che Blender ci apre una finestra a parte nella quale compare via via il nostro elaborato. Il rendering è finito. Blender ci informa che il computer ci ha messo 29 secondi e 62 centesimi e questo è il risultato. Abbiamo utilizzato 100 sample, non potevamo aspettarci chissà che cosa. Però vogliamo iniziare a sperimentare, iniziare a vedere da soli, non imparando a memoria delle opzioni che vi dico adesso io. E' bene imparare da soli qual è la strada. Quindi come possiamo fare per confrontare i lavori con le diverse impostazioni? Abbiamo qui in alto, nella finestra che si è aperta, un menu a tendina che ci consente di selezionare diversi slot. In questo caso lo slot 1. Se adesso andiamo a selezionare lo slot 2, l'immagine scompare e noi possiamo andare a lanciare un nuovo rendering, magari con delle impostazioni diverse, per vedere come verrà prodotto. Chiudiamo la finestra, andiamo ad esempio, banalmente, a impostare 200 sample anziché 100. Rilanciamo il rendering con F12. Ovviamente ci metterà il doppio del tempo. Ecco fatto, questa volta ci ha messo 57 secondi e 21 centesimi. Vedo ora che c'è una banda nera qui sulla sinistra, un errore mio di inquadratura, è dovuto al taglio del muro. Comunque per il momento ignoriamolo. Abbiamo creato questa immagine nello slot 2 e questo ci permette di confrontare velocemente questa immagine con quella precedente. Se facciamo clic su slot 1 vediamo che la grana era molto più accentuata. Nello slot 2 questi puntini che compaiono soprattutto nelle zone d'ombra sono minori. Ovvio, ancora l'immagine non è buona, però abbiamo visto che cambiando il numero di sample si è aumentato notevolmente il tempo di rendering, ma è migliorata l'immagine. Vi propongo questo esercizio. Provate ad aumentare il numero di sample ad esempio a 1000 o addirittura 2000. Tuttavia adesso vorrei provare con voi a utilizzare un sistema che aiuta Blender a ottimizzare i tempi di calcolo utilizzando la luce ambientale. Abbiamo visto che la nostra stanza è illuminata dai raggi luminosi che vengono emessi dalla luce Word, quindi entrano da questi fori nelle pareti che sono il foro della porta, il foro della finestra e abbiamo nella parete opposta un'altra finestra ancora. Questa luce entra, rimbalza e Blender deve fare una serie di calcoli. Bene, esiste la possibilità di aiutare Blender a ridurre i calcoli. Vediamolo insieme. Prima di farlo ricordiamoci di cambiare slot, passiamo allo slot 3, così alla prossima prova vediamo la differenza. Manteniamo sempre 200 sample. Che cos'è questo strumento che aiuta Blender a migliorare il calcolo della luce che entra attraverso i fori che abbiamo fatto alle pareti? Sono delle semplici fonti luminose chiamate portali, portals. Ne andiamo a piazzare subito una qui sulla finestra. Entriamo in Edit Mode, passiamo in modalità di selezione vertici, selezioniamo i quattro vertici all'interno, quindi con Shift S richiamiamo il comando Cursor to Selected. La preiezione quindi è Shift S seguito da un 2. Abbiamo messo il 3D Cursor al centro della finestra, quindi possiamo uscire da Edit Mode e andiamo a inserire con Shift A una fonte luminosa di tipo Area. Questa luce di tipo Area la ruotiamo di 90 gradi lungo il suo asse X e quindi andiamo a modificarne la forma in modo che corrisponda alla forma della finestra stessa. Andiamo un attimo all'interno del pannello Object Data, che assume l'icona della lampadina perché stiamo trattando un oggetto di tipo Light. Andiamo a indicare che questo oggetto sì è una luce di tipo Area, ma non quadrata, la vogliamo rettangolare. Quindi questo ci consente adesso di modificarla anche in verticale. Ecco, facciamola diventare grande più o meno come il buco della finestra. In più andiamo a selezionare l'opzione Portal. L'opzione Portal trasforma questa fonte di luce in un portale, cioè un foro attraverso il quale Blender fa passare la luce che viene dall'ambiente Word. Infatti vedete che non c'è più l'opzione della quantità di luce. Vedete, togliamo un attimo di nuovo Portal. Vedete, senza Portal noi abbiamo la possibilità di impostare la potenza dell'illuminazione e anche il colore. Ma cliccando su Portal queste opzioni spariscono, perché il colore e la potenza derivano dalla luce ambientale. Non è più quindi un oggetto che emette luce, ma è un oggetto attraverso il quale la luce passa. Facciamo la stessa identica cosa anche con la porta. Selezioniamo le pareti, entriamo in Edit Mode, selezioniamo i quattro vertici, Shift-S, Cursor to Selected e quindi andiamo ad inserire un'altra luce di tipo Area. Ruotiamola anche in questo caso di 90 gradi, andiamo a indicare a Blender che la vogliamo di tipo rettangolare, quindi modifichiamo nella forma e andiamo a indicare Portal. Facciamolo anche per l'altra finestra. Vediamo che anche impostandolo come Portal, comunque la linea di direzione della luce rimane invisibile, quindi assicuriamoci che la luce abbia la direzione da fuori verso dentro. In più c'è un altro dubbio che è venuto anche a me in questo momento mentre posizionavo la luce. Sarà meglio posizionare la luce Portal nel filo interno della parete o nel filo esterno della parete? Questo lo chiediamo a Blender. Abbiamo uno strumento per verificarlo. Semplicemente lanciamo due rendering, uno con i Portal interni, così come li abbiamo messi adesso, e uno con i Portal esterni. E saremo noi stessi a valutare cos'è meglio. Abituiamoci a sperimentare, a porci delle domande e questo è il primo passo per imparare più velocemente. Bene, abbiamo inserito i Portal, lanciamo di nuovo il rendering, lasciando sempre come impostazione 200 sample. Il tempo è sensibilmente aumentato, ci ha messo un minuto e 55 secondi, quindi ci ha messo più del doppio, se vogliamo. Un po' come se avessimo impostato 400 sample, anziché 200. Vediamo tuttavia la differenza tra l'uso dei Portal e l'uso dei Bucchi, così come sono. Vedete che la differenza è notevole. Quindi riguardiamo dall'inizio 100 sample, 200 sample, 200 sample con i Portal. Fate degli esperimenti in prima persona. Un ulteriore strumento che ci aiuta a ridurre drasticamente il rumore è un'opzione chiamata Denoise. La troviamo all'interno del pannello View Layer Denoising. Va abilitata prima di lanciare il rendering e vediamo che ci sono diverse impostazioni. La più importante è Radius, che va da un minimo di 1 pixel a un massimo di 25 pixel. Per default questo valore è 8 pixel. Facciamo un'ulteriore prova. Impostiamo la slot 4 e rilanciamo il rendering, utilizzando il denoising su 8 pixel. Questa volta il tempo è stato appena più di quell'altro, 2 minuti e 0,3, ma la quantità di rumore è enormemente più bassa. Guardate la differenza tra un rendering durato 1 minuto e 55 secondi con un rendering durato appena 8 secondi in più. Ovviamente il denoise crea dei piccoli artefatti e va utilizzato con cautela. Va inoltre utilizzato calibrando bene questo raggio 8 pixel. Vi invito a fare degli esperimenti e capire che differenza c'è tra 8 e per esempio 25. Fate qualche prova in autonomia, in modo da capire in prima persona qual è la soluzione migliore. E comunque vi invito a non abusare di questo strumento che effettivamente a prima vista è stupefacente. Vedete, guardate la differenza tra il primissimo rendering che abbiamo fatto e questo di adesso. È proprio tutta un'altra cosa. Però state attenti a non cadere nell'artefatto perché poi dopo diventa poco gradevole. Però è importantissimo sapere che il denoise esiste. Torneremo più avanti a parlare ancora di illuminazione e di rendering. Adesso riprendiamo a modellare la nostra stanza. Ci sono ancora tantissime cose che si possono fare. In particolare vorrei vedere insieme a voi la realizzazione del battiscopa. Ci sono vari metodi, ci sono vari sistemi. Come poi del resto ci sono tanti sistemi per qualsiasi cosa. In Blender si possono ottenere gli stessi risultati percorrendo diverse strade. Quello che vi voglio proporre ora è un sistema in apparenza un po' complesso che però vi consente di avere un ottimo controllo della sagoma del battiscopa e è anche un ottimo esercizio per l'uso delle curve. Iniziamo per esempio a realizzare il battiscopa che andrà dallo spigolo della porta e seguirà tutta la parete per fermarsi alla porta del bagno. Selezioniamo la parete. Entriamo in Edit Mode. Quindi selezioniamo il vertice di partenza. Posizioniamoci sopra il 3D cursor quindi Shift S, Cursor to Selected. Usciamo di Edit Mode e andiamo a inserire un nuovo plane. Quindi Shift A, Plane. Questo plane chiamiamolo già battiscopa 1. Entriamo in Edit Mode. Selezioniamo tutti i vertici con il tasto A. Quindi li facciamo collassare al centro con il comando Merge che si richiama con l'abbreviazione Alt M. Quindi scegliamo di unire insieme i vertici al centro e otteniamo quindi un vertice che si trova esattamente al centro del plane ovvero dove era posizionato il 3D cursor. Assicuriamoci di avere lo snap ai vertici attivi. Quindi premiamo il tasto E per estrudere e andiamo ad ancorarci allo spigolo della parete. Effettuiamo un'altra estrusione, quindi E e andiamo a selezionare l'altro spigolo. Ancora E per estrudere fino a completare il nostro percorso. Ecco che abbiamo creato il percorso che seguirà il nostro battiscopa. Se lo vogliamo vedere meglio senza tutti gli altri oggetti attorno possiamo premere il tasto Slash del tasterino numerico per intenderci quel tasto che è sopra il numero 9. Ricordiamoci che questo tasto serve a nascondere tutti gli oggetti presenti all'interno della scena tranne quelli selezionati. Posizioniamo ora il 3D cursor per esempio al centro della scena quindi Shift S Cursor to World Origin e andiamo a posizionare un altro plane Shift A, Plane entriamo di nuovo in Edit Mode e uniamo tutti i vertici al centro come abbiamo fatto prima. Quindi con Alt M richiamiamo il comando Merge e selezioniamo di nuovo al centro. Posizioniamoci nella vista superiore tasto 7 quindi andiamo a disegnare quella che sarà la sezione del nostro battiscopa. Estrudiamo lungo l'asse Y di 8 cm quindi 0.08 Estrudiamo lungo l'asse X e X 1 cm quindi 0.01 quindi torniamo a estrudere verso il basso sempre lungo l'asse Y e Y e andiamo ad ancorarsi col tasto CTRL alla base del battiscopa. Infine selezioniamo il vertice di partenza e premiamo F per chiudere il giro. Adesso io ho creato una sezione molto semplice del battiscopa un semplicissimo rettangolo però nessuno ci vieta di creare una geometria leggermente più complessa. Per esempio possiamo suddividere lo spigolo superiore in due parti selezioniamolo facciamo clic col tasto destro del mouse e selezioniamo il comando Subdivide quindi possiamo prendere il vertice a destra e spostarlo lungo l'asse Y in modo da creare una piccola smussatura. Possiamo prendere il vertice in basso a destra e spostarlo leggermente in fuori lungo l'asse X ecco quindi che abbiamo creato una forma leggermente più articolata. Considerate comunque che all'interno della nostra scena il battiscopa sarà un elemento secondario non lo vedremo in primo piano però ripeto questo è anche un esercizio che si può applicare a qualsiasi altra cosa. Bene cosa facciamo adesso? Intanto rinominiamo la sezione del battiscopa in modo da ricordarci di cosa si tratta. Lo chiamiamo battiscopa sezione quindi lo andiamo a convertire in una curva Object Convert to Curve from Mesh ecco che se adesso entriamo in Edit Mode vediamo che non è più una mesh ma è diventata una curva. Stessa cosa andiamo a fare con il battiscopa Object Convert to Curve from Mesh perché abbiamo prima disegnato il percorso del battiscopa poi abbiamo disegnato la sezione e quindi le abbiamo convertiti in una curva perché le curve abbiamo visto nelle lezioni precedenti possono essere utilizzate per creare un'estrusione lungo un percorso. Assicuriamoci che l'origine della sezione del battiscopa sia nel punto di intersezione quello che sarà il punto di intersezione tra la parete e il pavimento quindi andiamo a selezionare il nostro battiscopa andiamo nel pannello Object Data nella sezione Geometry andiamo a selezionare come oggetto Bevel la sezione del battiscopa ecco che Blender ci ha creato il nostro battiscopa ripeto vi sembrerà una procedura un po' macchinosa però vi consente di avere il massimo controllo sull'oggetto che state creando con questo stesso identico sistema potrete creare ad esempio le grondaie di un edificio potrete creare dei cavi elettrici potrete creare tutto ciò che appunto può seguire un percorso magari avremo occasione di utilizzare ancora questo sistema ripremiamo il tasto slash del tasterino numerico torniamo quindi a visualizzare tutto e andiamo a creare con lo stesso identico sistema che abbiamo appena utilizzato il battiscopa dell'altra parte della stanza nascondo momentaneamente il tetto quindi iniziamo con il posizionare il 3D cursor nel vertice in basso a destra della porta del bagno shift s cursor to selected e quindi ripetiamo tutti i passaggi che abbiamo fatto prima ve li elenco velocemente mentre li faccio shift a per inserire un nuovo plane entriamo in edit mode alt m per richiamare merge al centro quindi abbiamo un vertice nel punto selezionato ricordiamoci di rinominare già adesso il battiscopa con nome battiscopa 2 quindi iniziamo a distrudere in modo da seguire il percorso e per estrudere tasto control per ancorarci e facciamo tutto il giro se a un certo punto vi trovate a far fatica un attimo a eseguire lo zoom o il pan vi ricordo che premendo il tasto home potete eseguire una sorta di reset della vista quindi tornate a farlo zoom e vedete che vi troverete molto più agili nei movimenti bene abbiamo ricreato il percorso usciamo ad edit mode convertiamo il battiscopa 2 in una curva object convert to curva from mesh cioè dammi una curva partendo da una mesh quindi andiamo all'interno del pannello object data e selezioniamo come bevel object di nuovo la sezione del battiscopa ed ecco che blender ci ha creato anche in questo caso il battiscopa in un attimo vedete che poi una volta imparata la procedura si fa molto in fretta in qualsiasi momento possiamo selezionare la sezione del battiscopa la possiamo isolare premendo il tasto slash del tasterino numerico quindi possiamo andare a modificarla adesso la modifico volutamente in maniera diciamo esagerata ecco giusto per vedere in tempo reale che cosa cambia nella nostra scena vedete che blender è andato a modificare la sezione annulliamo con ctrl z andiamo anche a selezionare come opzione fill caps che dice a blender di chiudere i buchi di partenza e di arrivo facciamolo sia per il battiscopa 1 che per il battiscopa 2 ed ecco che il battiscopa è completato dal punto di vista geometrico diciamo che ci va bene quindi lo possiamo riconvertire in una mesh object convert to mesh from curve perché adesso era una curva lo riconvertiamo in una mesh stessa cosa per l'altro battiscopa object convert to mesh from curve se adesso entriamo in edit mode vediamo che abbiamo tutti i nostri bei vertici spigoli facce e così via diamo una riordinatina alle nostre collection mettiamo battiscopa 1 all'interno di stanza così anche battiscopa 2 invece battiscopa sezione io lo sposterei in un'ulteriore collezione cioè una collezione di oggetti che sono si utili perché ci possono sempre tornare comodi per ricreare altri battiscopa o comunque ci possono servire in altre scene quindi diciamo abbiamo bisogno di mettere in un posto in cui siano facilmente recuperabili quindi premiamo il tasto M per richiamare move to collection e creiamo una nuova collezione ad esempio io la chiamerei backup o semplicemente bk quindi diciamo che la collezione bk è quel contenitore in cui andiamo a mettere tutti quegli oggetti che ci può far comodo riavere successivamente poi siccome non deve comparire all'interno del rendering la disabilitiamo sia dal punto di vista della visibilità sia dal punto di vista della visibilità nella fase di rendering bene per questa lezione è tutto nella prossima andremo avanti con la modellazione della nostra stanza ne approfitto per ringraziarvi per l'acquisto delle dispense in molti mi state scrivendo che sono utili per avere sotto mano un riferimento veloce e rapido e anche su cui prendere appunti quindi io continuerò a produrle e a partire da questa lezione ho anche creato una piccola demo per chi magari è curioso di vedere come sono fatte e quindi le potete scaricare dal link che vi lascio nella descrizione di questo video io come sempre vi ringrazio per avermi seguito e ci rivediamo presto per avermi seguito per avermi seguito per avermi seguito